I bacini di accumulo nelle cave di smesse. Il Consiglio regionale approva una proposta della consigliera Meini per prevenire i periodi di siccità. Guardia medica avanti con la riforma, respinta una mozione presentata da Italia Viva che chiedeva alla Giunta di tornare sui propri passi. Pannelli fotovoltaici chiesti più incentivi approvata la mozione presentata dal consigliere Fausto Merlotti. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, la trasmissione dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In questo appuntamento tratteremo vari argomenti. Il primo è quello della siccità. Il Consiglio ha approvato infatti all'unanimità una proposta presentata dalla consigliera Meini della Lega che è quella di trasformare le cave dismesse in bacini di accumulo. Sentiamo proprio la consigliera Elena Meini. Auspichiamo che oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo in Toscana ci sono circa 2.400 cave. Altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2.400 cave. La visione, la rivisitazione per far sicché alcune, almeno di queste cave, possono diventare dei veri e propri bacini di accumulo. L'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori, diverse attività produttive. E quello che noi ospichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più. Quindi abbiamo tutto un periodo, diciamo, tunnale, invernale davanti per poter valutare queste cave come bacini di accumulo e cercare di risolvere per la prossima estate questo problema che ha travolso non solo questa regione. Adesso parliamo dell'evento alluvionale di questa estate a Bagno a Ripoli. La consigliera Tozzi ha chiesto alla Giunta di anticipare i ristori ai cittadini colpiti. Sentiamo. Io credo che il rischio geologico ormai sia sotto gli occhi di tutti. Deve diventare un'emergenza nazionale. Le regioni troppo spesso affrontano questo tipo di situazioni anche con degli strumenti spuntati. In realtà la pianificazione e la prevenzione richiedono un monitoraggio attento del territorio. Ciò che spiace di fronte a situazioni emergenziali è che non ci sia talvolta una risposta pronta anche in termini economici nei confronti di famiglie, di aziende che molto spesso perdono tutto e si ritrovano quasi abbandonate dalle istituzioni. Oggi abbiamo provato a chiedere maggiori chiarimenti anche all'assessorato sui tempi, sulla quantificazione anche dei ristori che noi auspicavamo fossero elargiti anche in tempi brevi alle tante famiglie e anche sul fronte della prevenzione. Spiace vedere che queste risposte però non sono non sono arrivate o quantomeno non sono soddisfacenti perché è quasi il solito rimpallo di responsabilità tra governo, regioni e poi comuni. Io credo che questo sia assolutamente inaccettabile. È necessario invece che le regioni pur a fronte delle note difficoltà economiche siano in grado magari attraverso i fondi di riserva di dare delle risposte immediate. Questo io credo che i cittadini se lo aspettino e credo che questo debbano fare le istituzioni. Passiamo alla sanità. Italia Viva, recependo un emendamento del Movimento 5 Stelle, ha presentato una mozione per chiedere lo stop alla riforma della Guardia Medica in Toscana avviata dall'amministrazione regionale. La mozione però è stata respinta. Sentiamo prima Scaramelli del gruppo di Italia Viva e poi la risposta del Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. È una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della regione toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. E quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato, che è uscito negli organi di stampa, in primis la Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa, riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo da Giunta per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccata, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte dei territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza, di urgenza adeguato alle proprie aspettative, che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante. Sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata. Dispiace che il Partito Democratico da solo contro tutto il Consiglio regionale abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Mi pare che il tema della riforma della continuità assistenziale, della guardia medica, è una cosa che si parla da anni. Già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117. Quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è da ristrutturazione tutto il tema delle case delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24. Quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto. Quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità AB. E le preoccupazioni per le aree periferiche, l'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica. Quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la giunta sta facendo. Quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo. Sia perché la procedura che sta seguendo la giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. La lettura politica non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni, ma penso però che questo sia veramente una presa di posizione dei consiglieri di Italia Viva, ma che non abbia poi ripercussione di carattere generale rispetto alla maggioranza. Passiamo adesso al rigassificatore a Piombino, uno dei punti più dibattuti in campagna elettorale qui in Toscana. A margine del Consiglio, Fratelli d'Italia ha presentato le proprie proposte al Presidente Gianni. La nostra linea resta coerente, perché non potrebbe essere altrimenti. Noi abbiamo sempre parlato di Piombino come scelta inopportuna, perché Piombino ha già dato tanto all'Italia, non perché Piombino si sottrae quando c'è da dare all'Italia, perché Piombino ha già dato all'Italia. Di scelta inopportuna e soprattutto di scelta fatta senza le dovute considerazioni, cioè senza valutare attentamente se vi siano o meno possibilità alternative a Piombino. Quando Giorgia Meloni è stata ospite in Toscana durante la campagna elettorale ha detto la stessa cosa, cioè ha detto che faremo le valutazioni. Qualora ci fossero valutazioni scritte nero su bianco che il reglassificatore deve essere fatto per forza a Piombino, è ovvio che l'emergenza energetica del Paese in questo momento è la priorità, ma prima proveremo a fare quelle valutazioni che fino ad oggi nessuno ci ha fatto, diciamo ci ha convinto fino in fondo aver fatto. Lo stesso Governatore Gianni, perché l'atteggiamento che ha avuto sulla via, prima non si fa se non si fa la via, poi la via non serviva più, non è stato chiaro fino in fondo. Quando ci sarà scritto nero su bianco che Piombino sarà l'ultima delle chance, l'unica, non l'ultima, l'unica chance per realizzare il reglassificatore, il reglassificatore si farà. Il Governo farà tutte le valutazioni del caso, se riuscirà a formarsi ovviamente, perché poi dopo non giochiamo sulla data, cioè se il Governo riuscirà ad entrare in carica prima del pronunciamento sarà il Governo Meloni che arriverà, qualora dovesse pronunciarsi prima sarà il Governo Draghi in esercizio delle sue ultime funzioni a doversi pronunciare. Io mi auguro, e lo dico chiaramente perché poi dopo si va a giocare su l'avete detto sì, l'avete detto no, se dovesse aspettare il Governo Draghi, io mi auguro che il Governo Draghi faccia lo stesso, mi auguro che voglia fare questo passaggio, voglia farci vedere un documento dove ha valutato eventuali collocazioni alternative a Piombino. Voltiamo ancora pagina, la Regione chiede al Governo di aumentare gli incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici. La richiesta approvata dal Consiglio è stata avanzata dal consigliere del PD, Fausto Merlotti. Sono molto soddisfatto personalmente, come gruppo del Partito Democratico lo siamo, per l'approvazione avvenuta oggi in aula della mozione che impegna la Giunta regionale a semplificare ulteriormente ad intervenire rispetto a tutte quelle norme e regionali e di carattere nazionale impegnando appunto il Governo ad una semplificazione affinché le persone, i cittadini ma anche le imprese possano avere meno lacci lacciuali possibili e anche le amministrazioni comunali nel rilasciare tutte quelle attualizzazioni affinché sia possibile con celerità avere impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di cui abbiamo tanto tanto bisogno. Era una mozione che era qualche mese ferma in aula per la discussione e l'approvazione, io poi l'ho riproposta ora i primi di settembre ed oggi finalmente l'aula all'unanimità, questo lo voglio riconoscere, con quindi la partecipazione fattiva anche delle opposizioni ha raggiunto questo obiettivo. Riconosco anche, do atto alla Presidente Bugetti della Seconda Commissione del lavoro che il gruppo che lei ha messo in piedi in Seconda Commissione sta portando avanti ad esempio sulle comunità energetiche e noi con questa mozione impegniamo la Giunta ad attivarsi e con il nuovo governo e con tutte quelle opportunità che il PNRR offre, che il Piano Nazionale per le energie e fonti rinnovabili alternative offrono, che l'Agenda 2030 offre, affinché sia possibile iniziare tutte quelle buone pratiche, continuare quelle già avviate e intraprese affinché le imprese energivore, le famiglie, i cittadini possano come dire, ridurre la propria dipendenza energetica rispetto alla crisi che stiamo appunto vivendo con il rincaro veramente enorme delle bollette energetiche. Io penso un passo importante e concreto in favore dei cittadini toscani in primis. E chiudiamo con il teatro, inizia il 23 ottobre, la stagione autunnale 2022 del Teatro di Buti in provincia di Pisa. Il programma del cartellone è stato presentato durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Previsti otto spettacoli che fino al 20 dicembre si alterneranno in orario serale e pomeridiano. Di luogo in luogo è il titolo della rassegna, a sottolineare che le rappresentazioni a causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro Francesco di Bartolo si terranno in due spazi diversi, la Sala di Bartolo e il Teatro Vittoria a Cascine di Buti. Sentiamo le interviste. Questa è un'iniziativa a cui tengo molto, in particolare Buti è un po' il paesino che mi ha adottato, è arrivato in Toscana ed è un luogo vitale in cui il fermento culturale è importante, tante le iniziative. Questa è la più importante, raccontare la stagione teatrale che quest'anno sarà un po' particolare anche perché il teatro inizierà un'opera importante di ristrutturazione per renderlo più moderno, più accogliente perché oggi il messaggio che vogliamo mandare di qui con forza è che più investiamo in cultura più costruiamo libertà, più investiamo in cultura e più rendiamo i cittadini consapevoli di conoscere quello che accade, quello che li circonda, investire in una stagione teatrale, in una realtà così piccola ma in cui il fermento culturale è forte, dà il segno di qual è la strada da dover perseguire. Quindi un grazie a tutti, a chi ogni giorno con fatica, impegno, prova a costruire una stagione di alto livello, un grazie all'amministrazione comunale che ci crede sempre da tanti anni e penso che questo sia un messaggio forte che dobbiamo mandare, costruire iniziative, momenti culturali, teatrali diffusi sul nostro territorio, ci sono tante esperienze belle e bisogna provare a metterle in rete. Quest'anno cominciamo di nuovo a fare teatro, come ha detto già il nostro assessore e ci fa molto piacere farlo in luoghi diversi dal teatro normale che ci dà delle opportunità nuove di messe in scena. Per cui è un percorso, da una parte che all'inizio abbiamo pensato difficile, poi invece abbiamo trovato che ci sono delle soluzioni nuove, incredibili, straordinarie, che possono riportare la gente ad amare il teatro attraverso dei percorsi che sono quelli che ama molto il teatro, cioè misteriosi, segreti, lontani, che bisogna cercare, perché il teatro è qualcosa che va cercato attraverso una fatica anche personale per ritrovare di nuovo un'anima, che è l'anima dei luoghi, che è l'anima degli attori, che è l'anima anche degli spettatori. Gli spettacoli che noi presentiamo sono per ora otto spettacoli e partano da ottobre fino a dicembre. Cominciamo con Luca Scarlini che noi tutti conosciamo, che è questo picco della merandola, diciamo, in tutti i settori che ha affrontato e poi abbiamo un incontro su Dostoievski, su uno spettacolo che è legato a Fratelli Karamazov e poi ancora una che ha partecipato, che è Sergio, che è stata candidata al premio Ubu come migliore spettacolo teatrale, ma non è tanto degli spettacoli che voglio parlare, quanto del fatto che, come ho già detto, che va cercato questo teatro e di nuovo va trovato un senso profondo ad andare davanti al teatro, che non è quello del semplice intrattenimento, quello lo sa fare molto bene la televisione, questo è chiaro. Noi siamo per qualcosa che ci tocchi nel profondo e tutti i nostri spettacoli, ad esempio c'è di nuovo uno spettacolo di Cauteruccio che Firenze purtroppo per ragioni politiche ha abbandonato abbastanza, che si propone a noi con l'ultimo nastro di Crap, di Beckett, ci soffiniamo poi dopo con Le Ariette che è uno spettacolo di questa compagnia teatrale che ama definirsi contadina e che in fondo durante lo spettacolo prepara anche una grande cena e questi sono otto titoli, tutti abbastanza importanti. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.